Daniel Noboa è stato eletto presidente dell'Equador. Ha sconfitto così l'erede di Rafael Correa, Luisa González, candidata con il partito di sinistra, Revolución Ciudadana. Daniel, 35 anni, ha portato alla vittoria Action Democrática Nacional, il neonato movimento liberale fondato solo nel marzo scorso. È figlio di Alvaro Noboa, l'uomo più ricco del paese. I Noboa sono noti per l'esportazione e la produzione di banane, sono stati accusati in passato di evasione fiscale, sfruttamento del lavoro minorile e violenze sui lavoratori.